25.000 euro di accessori per le feste sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno in vari esercizi commerciali di battipaglia, eboli ed agropoli. Decorazioni luminose, addobbi e luminarie natalizie sono gli oggetti sottratti dal commercio, in quanto non rispondenti ai dettami previsti dal Codice del Consumo, poiché sprovvisti delle informazioni identificative minime, quali ad esempio i dati relativi al produttore o all'importatore, al paese di origine, alla natura dei materiali impiegati e all'età minima per il loro utilizzo. Tutte informazioni quest'ultime che per legge devono essere presenti sulle confezioni o sulle rispettive etichette, in modo visibile ed in lingua italiana. La posizione di tale dicitura infatti garantisce al consumatore finale la consapevolezza della qualità del prodotto e il suo utilizzo in piena sicurezza. I titolari degli esercizi commerciali sono stati dunque segnalati alla competente Camera di Commercio per l'irrogazione delle sanzioni previste. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, con l'approssimarsi delle festività natalizie, ha dunque intensificato i controlli a contrasto sia del fenomeno del commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori che dello spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente, infatti, è stato anche incrementato il contrasto allo spaccio di stupefacenti, nello specifico in occasione del concerto di un noto rapper italiano, tenutosi presso il palasele di Eboli, i finanzieri del gruppo di Eboli, coadiuvati da unità cinofile in forza al gruppo di Salerno, hanno sequestrato complessivamente circa 25 grammi di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana, e segnalato all'autorità prefettizia 25 giovani assuntori. I risultati conseguiti testimoniano ancora una volta la costante attenzione che la Guardia di Finanza dedica al contrasto dei fenomeni illeciti, soprattutto con l'avvicinarsi di periodi spensierati e di vacanza, quali appunto le feste natalizie.